Un protocollo d'intesa tra Fondazione Carispa che è comune per realizzare, grazie al finanziamento della Fondazione stessa, il ripristino dell'antico fontanile nei pressi della Chiesa di Santa Giusta a Bazzano. Azione che si pone in continuità con le altre iniziative già intraprese dalla Fondazione e dal Possisma per recuperare importanti beni culturali cittadini che, oltre a favorire l'identità della comunità, sono elementi di aggregazione per il Centro e le frazioni, una realizzazione che arriva su impulso del Comitato Locale di Bazzano. Il compito della Fondazione è quello di conservare la memoria storica. Abbiamo visto questo grande intervento che si sta facendo su questa Chiesa, una Chiesa importante, e c'era questo particolare, la Fontana, non era stata tenuta in considerazione. Allora, siccome la Fontana è una cosa importante nel comprensorio, nella frazione, nella città, il luogo dove si riunivano anche i cittadini, abbiamo pensato di accogliere un suggerimento che è venuto da un comitato, il Comitato di Bazzano, che è stato messo insieme da volontari che ci hanno invitati a prendere in considerazione il restauro della sala. L'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto con i nostri mezzi e con la nostra velocità, perché quando interviene la Fondazione, per legge, ha la possibilità di intervenire immediatamente senza i vari stadi di intervento, la pubblicazione, l'apparto. Direttamente abbiamo trovato un'impresa brava e stiamo al punto di averla restaurata. Il progetto prevede la rimozione dell'attuale fontanella in ghisa e il ripristino dell'originario fontanile in pietra, questo grazie ad un attento studio e approfondimento e grazie a una documentazione storica e a tutto il materiale fotografico dell'epoca. La Fondazione risulta essere sempre più vicina a questa città. È un intervento piccolo ma molto significativo perché viene tolto, rimosso un fontanile, un pezzo in ghisa per poi riportarlo all'antico splendore. Questo sicuramente contribuirà in maniera significativa a quello che sarà il recupero anche degli altri beni e quindi rituffarci nell'aquila bella così com'era.